Dispiace davvero tanto che nel 2021 possano verificarsi insulti omofobi, soprattutto quando a pronunciarli sono dei ragazzi che dovrebbero essere il futuro del nostro paese, la nostra classe dirigente. C'è ancora troppa ignoranza in giro, menefreghismo, cattiveria e a causa dell'ignoranza alle volte si ferisce l'anima delle persone. È il caso di Pierpaolo Mandetta, scrittore originario di Capaccio Pestum, che nella giornata di ieri ha ricevuto insulti da un gruppo di ragazzi. Pierpaolo ha condiviso la sua tristezza e amarezza per quella frase in uno scatto sul suo profilo Facebook, ricevendo massima solidarietà per quanto accaduto. Un episodio che lo ha fatto tornare indietro nel tempo, quando a 15 anni i suoi compagni di classe lo prendevano in giro e gli rovinavano le giornate e l'esistenza. Stasera, intorno alle 17.30, scrive Pierpaolo, stavo lavorando nel podere con un amico ed è passato di fronte al casale un branco di sei ragazzi sui motorini. Passano sempre, ogni pomeriggio, con due cani sciolti, uno nero e uno marrone, ma in genere sono un paio di loro che arrivano fin lì. Stavolta c'era tutta la comitiva. Pensando che io fossi in casa e quindi di non essere visti, uno di loro ha urlato una frase omofoba. Poi si sono accorti che invece erano nel parco e che li avevo riconosciuti, così hanno accelerato e sono usciti dalla campagna. Penso siano tutti i figli delle famiglie del Cafasso, il borgo di Capaccio Pestum, in cui è situato il podere. Non li conosco, non posso sapere se le loro famiglie sono di brave persone che non immaginano di avere figli del genere, ma una cosa la so, credevo che non facesse più male di averla superata, di essere un uomo che ha trasformato quei ricordi in cicatrici e che capisce che là fuori ci sono persone crudeli, bisogna solo resistere. Invece non è così. Ho fatto finta di niente, ho chiuso gli attrezzi nel capanno, sono salito in macchina per tornare a casa e quando ho messo in moto sono scoppiato a piangere. Come se non fosse passato un giorno da quei tempi in cui quei ragazzi di 15 e 16 anni mi chiamavano in quel modo a scuola e mi rovinavano per sempre la vita, come se avessi ancora paura e adesso so che così ancora ho paura del mondo. Io so perfettamente cosa vuol dire essere gay in un paese di provincia. Discorsi sull'orgoglio e sul combattere non servono a nulla quando intorno a te hai persone che fanno in modo che tu sia socialmente evitato, escluso o chiacchierato o quando hai intorno uomini, padri di famiglia che fanno della virilità un vangelo e conservano il fucile nel garage per risolvere i problemi. So perfettamente che tante persone diranno cose del genere alle mie spalle che penseranno che io faccio schifo e va benissimo. A me non interessa niente di avere il rispetto degli sconosciuti o l'accettazione da gente orribile ma di certo non posso sopportare di essere insultato a 33 anni, di provare di nuovo paura nel posto che diventerà la mia casa e mi darà un lavoro. Non posso essere colpito al cuore nel posto in cui vorrei sentirmi più al sicuro. Pubblico questa foto, conclude Pierpaolo, senza vergogna. Non importa se così mi rendo vulnerabile o ridicolo perché, ripeto, che non è una questione di forza, di lotta o resistenza. Fa male e basta. È una violenza e non è giusto. E la pubblico affinché chi li conosce capisca il dolore che possano causare dei ragazzi di quell'età. Perché se lo fanno a me vuol dire che lo faranno anche nella scuola e magari stanno distruggendo l'adolescenza a qualcuno come è successa ai miei tempi. È lo sfogo questo di Pierpaolo Mandetta che ha voluto condividere con tutti i suoi amici su Facebook. Pierpaolo, una persona dall'animo gentile, buona e sempre sorridente, ha ricevuto un'offesa che gli ha riaperto una ferita che non si rimarginerà così facilmente a causa della scarsa sensibilità e cultura di un gruppo di ragazzi senza educazione e senza rispetto, un gesto da condannare e punire che non trova giustificazioni.